Per me la metafora è la figura retorica più democratica che c'è, perché riesce, se fatta bene, a far capire con immediatezza un concetto anche, magari non semplice, a volte, a tutti quanti. Eh ragazzi, porco boia, oh, c'ha mica passi, oh ragazzi, dobbiamo vincere, porco boia, c'ha mica qui a metterci la brillantina sui peli del petto, ragazzi. C'ha mica qui a dare lo smalto alle unghie degli ottomani, c'ha mica qui a fare la ceretta alloieti, l'orto non è calanarvi mica con la cedrata a tassoni, ragazzi, porco boia, oh ragazzi, c'ha mica qui a togliere le occhiaie ai panda. Quando la gallina fa l'uovo, non dici mica se ci brucia il culo, ragazzi. Non è che per piastrellare il bagno usi le sottilette. C'ha mica qui a fare il parmigiano con l'alte di soia. Non è che siamo qui a imbottigliare l'idraulico liquido. Ragazzi, oh, c'ha passi? C'ha mica qui a mettere la crema da barba nei ringo. C'ha mica qui a mettere il perisoma al toro da monta. Non è che se c'ha il fascino non lo usi come cotonfioc per le orecchie, ragazzi. Oh ragazzi, lo strutto dietetico non esiste mica. C'ha mica qui a cambiare l'infiscio al Colosseo. C'ha mica qui a bussare prima di aprire le vongole. C'ha mica qui a cotonare i pu. C'ha mica qui a montare le tende a Lampedusa per portarci dentro le tedesche, ragazzi. C'ha mica qui a montare le vongole. C'ha mica qui a montare le vongole. C'ha mica qui a montare le vongole.